Chi è quel giocatore che ha segnato? Ma chi è? Douglas Costa, Douglas Costa, la Roma è una squadra di merda come l'Inter e il Milan Giù in descrizione andate a cliccare il link, il mio profilo di Instagram Alessandro, trattino basso, Donarini, tutto su Instagram, qui, dalla base tu e tutto Noi ragazzi